Anche quest'anno si ripete un carabiniere per Babbo Natale, l'iniziativa che ormai da 16 anni organizza la Dricesta Onlus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, visitando e distribuendo doni ai piccoli degenti dei reparti pediatrici dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Oltre ai volontari della Dricesta Onlus e ai carabinieri, ad allietare la giornata ci hanno pensato anche i laureandi di musicoterapia del Conservatorio Luisa d'Annunzio di Pescara. Al nostro microfono Carla Panzino, presidente della Dricesta Onlus e il generale Carlo Cerrina, comandante della Legione Abruzzo e Molise dei Carabinieri. Come ho sempre detto non ci può essere Natale in ospedale senza Babbo Natale Carabiniere e questo è imprescindibile. Noi porteremo tanti giochi grazie sia ai Carabinieri di Pescara che ci hanno aiutato a raccogliere bene i fattori e soprattutto la Lisciani Giochi. Sono oramai 16 anni che questa bellissima iniziativa esiste nelle corsie dell'ospedale di Pescara in tutti i reparti pediatrici e questa è la cosa ancora più bella perché tutti i bambini che stanno poco bene, che trascorrono le festività natalizie in ospedale hanno il diritto del loro Babbo Natale. Un Babbo Natale speciale, un ho 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 che viene comunque con i colori dell'arma, da 16 anni sempre lo stesso Babbo Natale e si sono avvicendati tanti comandanti. Per me quest'anno è ancora più bello perché per la prima volta c'è il generale, il comandante Abruzzo e Molise che ci onora della sua presenza e soprattutto della sua solidarietà perché ha voluto pensare ai bambini più grandi portando dei gadget, dei carabinieri proprio per i bambini più grandi che in effetti sono i più difficili da accontentare. Il regalo più grosso è quello che facciamo noi a noi stessi, essere qui con Carlo è una cosa bellissima per noi e per i ragazzi, essere vicino ai ragazzi che stanno poco bene in questo momento il Natale è per noi che siamo qui sempre in servizio al loro favore, è una cosa importantissima, se riusciamo a donargli un sorriso, a strappare un sorriso a questi ragazzi è il regalo più grosso che possiamo fare a noi stessi. Qui abbiamo invece Babbo Natale in persona, in carne ed ossa, cosa regaliamo oggi? Un piccolo pensierino, donargli tutta l'armonia, è la cosa più bella del mondo e stare vicino a loro sempre. Tanti auguri!